Ogni giorno in cucina c'è qualcuno che prova a fare lo chef Tritta, schiaccia, sbatte, svita, frulla e poi si macchia Prova ancora, versa, prega, sforna e infine impiatta Anche se in tv mi pare avesse un altro aspetto Ti prego posso averne un altro piatto A te che fai sempre del tuo meglio, noi di Mutti dedichiamo il nostro Grazie